E' la squadra che conta. Tutti uniti lungo un'unica direzione che è quella del tendere la mano. Qui vedete una parte della squadra del progetto Necoriamo in Rosa Per, partito da Coeromonte, arrivare domenica lungo questa staffetta a Monza, staffetta di 250 km, 11.000 m di dislivello. Qui siamo in Valganna, in provincia di Varese, insieme per guarire un bambino in più. Quale bambino? Chi? Ce ne parla Maria Luisa Molvestiti, che è la mente del progetto. I bambini sono bambini affetti da leucemia linfatica acuta. Noi raccogliamo i fondi per il comitato Maria Letizia Verga, col quale collabora il centro Tettamanti, un centro all'occhiello di elite per l'Italia. Si occupa quindi di ricerca sulle leucemie e sulle emopatie infantili. Il progetto qual è? Quello del passaporto genetico. Vorremmo che ogni bambino affetto da leucemia linfatica acuta abbia il suo passaporto genetico, in quanto si è visto che alcuni rispondevano alla terapia, altri no. Quindi studiando il DNA hanno visto che esistono dei sottogruppi di questa patologia. Studiare il sottogruppo vuol dire trovare il chemioterapico apposta. Quindi il passaporto genetico per tutti i bambini con la leucemia linfatica acuta. Al posto di avere attualmente 8 su 10 come guarigioni, vorremmo avere 9 su 10 per arrivare a una totalità di guarigioni. Perché volessi avere informazioni e magari perché non contribuire? www.necoriamerosaper.it Ci sarà un cliccare sopra la rete del dono e poi si possono fare donazioni con dei bonifici oppure con Paypal, qualsiasi, perché anche una minima donazione è sempre un aiuto per questi bambini. Basta volerlo, come dicevo il Disney, se puoi sognarlo puoi farlo. Camminare è bello, farlo per una causa nobile e speciale. Quindi buon cammino a tutti. Grazie.